buongiorno ragazzi ben ritrovati a quincenzo oggi vi porto la mia prima macchina full elettriche e non potevamo cominciare che con un evento a bomba perché vi sto portando niente proprio di meno che questa ford mustang e o i come la pronunciano gli americani questa la standard range guardate che bella una macchina molto molto particolare ovviamente prestazionale perché il dna della mustang traspare anche in questa in questa soluzione elettrica full electric ovviamente assimilabile alle muscle car ma con le dovute diciamo con le dovute cautele nel senso che le prestazioni ci sono specie se poi andiamo a scomodare la versione gt da 487 cavalli in questa occasione abbiamo praticamente la versione all wheel drive vedete mac qua c'è la dicitura mac i4 lo vediamo anche sul posteriore all wheel drive 4 watt di motrice vuol dire praticamente ci sono due motori che lavorano in sincrono manca ovviamente l'albero di trasmissione come avviene sulle macchine tradizionali quindi niente albero di trasmissione tantissima aderenza macchina davvero con un baricentro molto molto buono la batteria ovviamente è alloggiata batteria che pesa arriva a pesare fino a 600 kg batteria in questo caso da 76 kilowatt è alloggiata ovviamente sul pianale questo poi dopo vi farò vedere porterà qua abbiamo diciamo soluzioni avveneristiche ragazzi anche solo per l'apertura delle portiere come vedrete poi il pianale andrà diciamo a risentire della del suo posizionamento perché chiaramente poi le gambe saranno sollevate un attimino non avranno la profondità che normalmente ha un'autovettura comunque questo poco male l'abitabilità è molto buona bene questa è una macchina che viene proposta a 63 mila euro adesso è la versione 2022 nel 2023 per quelli che andranno a immatricolare la macchina quindi nuova la nuova diciamo versione sarà la standard range premium che partirà dalla bellezza di 70 mila euro questa come vi dicevo costa 63 mila poi chiaramente ci sono tutti gli option al da aggiungere che che monta la macchina c'è diversa roba comunque tantissima tecnologia del resto lo vedete lo vedrete anche nel sistema di infotainment anche lì qualche piccola criticità per quanto riguarda poi il livello di sicurezza che lo vedremo più tardi adesso vi faccio vedere innanzitutto la capacità di carico della macchina poi la vedremo negli interni bagagliaio da 400 400 litri qua abbiamo ovviamente il pozzetto dove verranno contenute tutte le oggettistiche varie potete riporre qualsiasi cosa estendibile quindi a 1400 abbattendo il sedile come vedete c'è il suo frazionamento e poi abbiamo il pozzetto frontale ovviamente non essendoci il motore in questo caso un altro pozzetto da 100 litri circa dove vanno alloggiate le cabetterie e qua abbiamo poi altri accessori insomma quindi potete trovare diciamo in questi anfratti ancora spazio per qualcosina 100 litri non sono pochissima roba quindi un totale di 500 le avrete assicurati ok macchina molto bella bianca con questa con questo corsolo nero che va diciamo a dare un pochino questo è stato studiato per dare un attimino di discesa enfatizzare la linea coupe di questo crossover perché di fatto è un crossover fanaleria che va a ricordare ovviamente le ford mustang quelle diciamo tradizionali e qua il cavallo che corre libero nei prati della prateria questa macchina viene costruita in messico un impianto che è stato costruito ad hoc in un il paese si chiama davvero coutitlan una roba difficile da pronunciare quasi un scioglilingua davvero sta avendo un grandissimo successo guardate anche qua l'apertura con la caratteristica di questa macchina che è priva di maniglie ha giusto questo piccolo diciamo stra puntino per aprire la portiera come vedete anche qua non sono presenti basterà schiacciare e aprire questo è l'interno della macchina questo è l'interno della macchina qua come vedete abbiamo l'infotainment un mega schermo da 15 pollici e 6 davvero davvero too much come direbbero i ragazzini di adesso perché allora se è stato creato questo questo schermo da 10,2 pollici per dare il il minimo dell'informazione ed evitare distazioni aver creato questo popò di cinema scope è davvero io lo trovo davvero un po esagerato purtroppo l'unico comando fisico sarà quello della regolazione del volume è tutto touch e come come spesso avviene anche soltanto l'azionamento della dei comandi della climatizzazione e di tutto il resto diventa una qualcosa che distrae e non poco io sinceramente sono un po contro questo tipo di soluzione ovviamente qua c'è di tutto abbiamo tre modalità di guida la whisper che è quella per la guida tranquilla l'active che come dice la bc2 una guida bilanciata diverte ed emoziona e poi la versione bomba dove vengono scaricati tutti i cavalli e a disposizione 580 newton metri di copia ragazzi sono valori pazzesti e non tanto per quanto riguarda poi la velocità perché come vi ho detto è limitata elettronicamente ma l'accelerazione da fermo e poi per quanto riguarda anche la ripresa 80 120 chilometri è davvero una roba esagerata se ve lo farò vedere poi in movimento abbiamo la possibilità della one pedal drive io la utilizzo molto sulla link qua è molto e molto invasiva finché si guida in città è davvero fino fino fastidiosa perché davvero frena tantissimo bisogna qua bisogna modulare avere proprio il piede nel nel pedale c'è una sensibilità incredibile poi invece quando si è in movimento devo dire che la trovo la trovo molto 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 migliore ma in città mi infastidisce infatti l'ho disattivata questo è il selettore del cambio qua abbiamo una rotella pratica sì onestamente sulle prime ho avuto un po di un po di difficoltà poi come tutte le cose la sua fazione l'abitudine fanno sì che si migliori la situazione con un paio di click vi porterete dalla retromarcia al drive e viceversa quindi anche senza guardare saprete dove dove quello che state facendo la macchina è tutta assistita ovviamente ci sono gli adas di tutte le categorie abbiamo qua il discorso del controllo della velocità il controllo della come vedete del degli adas del mantenimento di corsia c'è davvero la qualunque un accenno al volante volante bello fatto ergonomico giusto senza senza strafare con impunture impunturato con cuciture rosse ha una consistenza che io non ho mai trovato su nessuna autovettura è troppo morbido e questa morbidezza unito alla leggerezza volante servo assistito elettricamente quindi anche ad indurimento progressivo ma quando si viaggia a basse velocità in questa morbidezza siccome risulta più leggero non so mi sembra di avere in mano un giocattolo non trovo quel collegamento quel feedback che invece un po in termini due rottistici si direbbe che non non hai la forcella in mano ecco non mi sembra di sentire molto bene quello che accade sotto con questa specie di di filtro data da questa come vedete da questa gommosità non lo trovo quasi un effetto posticcio ecco di quelle con le coperture che si mettono un po' aftermarket diciamo non mi piacciono e qua mi da questo questa mancanza di di feedback totale non sono proprio al massimo finiture guardate qua non si sono risparmiati sulla in ford hanno cercato di ovviamente far tesoro un po' della di quello che avviene anche in europa guardate materiali un po' come sulla sulla link a contrasto belle belle finiture devo dire che non mi dispiace bella anche la selleria selleria ovviamente in pelle pelle sintetica anche questa tutta tutta trapuntata comandi della dei sedili ovviamente ecco qua elettrici quando entrate la macchina al sedile arretrato quando la scenderete si avanzerà perché può essere anche regolata guardate che bella può essere regolata sulla vostra sulla vostra posizione posti posteriori come vi dicevo prima qua abbiamo un buon spazio macchina molto bella se posso dire la mia io avrei adesso ovviamente il sedile è stato arretrato comunque nonostante il sedile arretrato abbiamo ancora dello spazio a disposizione adesso mi sposto magari in questa posizione dove il sedile era un po' più le gambe ci stanno tranquillamente ecco quello che dicevo prima il fatto che la batteria sia sotto il pianale porta a rialzare ovviamente la posizione di base dei piedi lasciando le gambe sollevate questo magari allunga potrebbe un po' un po' stancare il viaggiatore stavo dicendo il cielo del del soffito tutto all'interno della macchina siccome la macchina ha questa questa diciamo andamento un po' discendente avrei preferito che fosse stato chiaro avrebbe dato quel quel po' di respiro quindi mancando il vetro di cristallo avrebbe dato quel po' di respiro in più all'interno dell'abitacolo che non è piccolissimo ma come vedete il fatto che comunque adesso io sono alto 1,76 ho ancora dello spazio ma col fatto che sia discendente no da quella quel ciccinino di di claustrofobia io questa cosa la soffro per cui parlo per con ragioni di causa qua abbiamo i comandi della climatizzazione due prese usb e poi un ingresso per la presa usb stessa cosa abbiamo sul frontale abbiamo anche la piasta di induzione per la ricarica wireless insomma ragazzi una macchina che a livello tecnologico non ha niente da invidiare a nessuno molto abitabile molto comoda adesso poi lo vedremo durante il test drive e vedremo come funziona quello che dicevo prima mi riallaccio al discorso iniziale sulla discorso della di avere di acquistare un'auto elettrica ecco il problema di queste auto sono questo in particolare perché drena parecchia energia se viene spinta è discorso dell'autonomia questa viene data con un'autonomia di 400 e rotti chilometri non li fa l'autonomia reale di questa macchina è 300 chilometri se poi viene gestita in un certo modo quindi risentirà del consumo dovuto all'impianto luci l'impianto stereo delle temperature qua c'è adesso vi farò vedere poi un indicatore che da come viene utilizzata l'energia io stando qua in montagna sono stato questa notte è andato sotto zero e buona parte un 13 per cento della ricarica se l'è mangiata praticamente il freddo quindi risentono gli accumulatori del freddo così come risentono anche del caldo del caldo quando esagerato quindi tenete conto di queste cose attenzione quando fate ricarica non vi fidate proprio secamente al 100 per cento di cosa che dice il contatore dell'autonomia perché purtroppo viene falsato da tanti da tanti elementi così come è in principale con l'elemento che da che dall'autonomia è il gas che da che darete questa macchina è una macchina che istiga a dare del gran gas e adesso vi farò vedere cosa di cosa è capace un'ultima carriolata e poi pronti per partire guardate che bella otto colorazioni questa è un bianco a me piace da non vi dico la squadra sono comincerete insultarmi comunque diciamo che questo accostamento mi ha molto gradito poi sono un particolare diciamo cultore apprezzo le macchine bianche questa diciamo si sposa bene comunque abbiamo altre sette colorazioni quindi ce n'è un po per tutti ovviamente fari full led ecco sulla fanalleria mi sarebbe piaciuto che avesse avuto anche diciamo la funzione cornering perché utilizzando le montagne avere diciamo illuminato nelle curve la la parte interna della curva e quello constatato salendo qua è un'altra cosa la sicurezza che da il faro che si sposta e vi va a diciamo anticipare la curva che andrete a fare è un plus che secondo me io al quale io non rinuncerei più oggi come oggi bello anche il posteriore con il rimando alla fanalleria delle delle grandi mustang bene adesso siamo pronti per la gita su strada buon divertimento